Buongiorno, ultimi giorni di campagna elettorale, domenica il voto per il Parlamento europeo ma anche in diversi comuni, anche in Veneto per le amministrative, sindaco e consiglio comunale. In questi spazi delle tribune che oggi si concludono, in questi giorni abbiamo sentito i candidati sindaco a Rovigo, solo in tutto sette e oggi completiamo il quadro con gli ultimi ospiti che abbiamo oggi in studio. Ve li presento, sono Ezio Conchi che è candidato con due civiche, Cambia Rovigo e Rovigo Futura, Antonio Gianni Saccardin che è candidato con la lista Presenza Cristiana e Silvia Menon sostenuta da tre liste, Menon sindaco e poi siamo Rovigo e Rovigo più. Sono tre candidati di questi sette che si presentano alle amministrative a Rovigo che hanno tutti una storia politica alle spalle anche da amministratori o da consiglieri dell'opposizione in comune a Rovigo. E perché candidarsi a sindaco un primo giro con tutti e tre e con chi? Ma probabilmente c'è un po' di ambizione e tanto masochismo, però a parte la battuta io credo di aver fatto un percorso fino ad oggi politico un po' particolare nel senso che sono partito consigliere comunale con il sindaco dottor Piva, poi assessore e poi anche vice sindaco nella seconda amministrazione Bergami. Mi sento abbastanza preparato quindi per fare anche l'ultimo gradino. La passata amministrazione è caduta, lei però era stato cacciato. Sì, sì, confermo, cacciato, cacciato perché ero contrario e si capiva. Avevo chiesto allora al mio partito di appartenenza che era Forza Italia di prendere le distanze ovviamente dalla Lega e invece di fare questa scelta hanno preferito continuare e mi hanno messo alla porta. Antonio Gianni Saccardin, Gianni è il nome con cui viene conosciuto da tutti. Antonio Saccardin detto Gianni. Allora, Saccardin, lei si presenta con la lista Presenza Cristiana, il nome già dice tutto, però lei è stato uno amministratore anche a Rovigo, assessore. Perché puntare a diventare sindaco o con che ambizioni si è presentato a questa competizione elettorale? Io ho fatto due mandati da tecnico, uno a Rovigo e uno a Lendinara. Dopodiché appassionato a questo tipo di nuovo servizio, ho fondato assieme degli amici la lista moderati di centro Presenza Cristiana, con i quali sono diventato vice sindaco nella giunta di Piva e attualmente sono stato assessore di lavori pubblici con la giunta Bergamin. Siamo una lista che aveva come motto rettitudine, competenza e spirito di servizio. Siamo stati fedeli sia come assessore sia come consiglieri a questo motto. Vogliamo continuare a essere punto di riferimento per chi in qualche modo crede i nostri valori cristiani, espressi però in maniera laica, e essere a suo punto riferimento soprattutto per quei giovani che vogliono fare un'esperienza dentro a una lista che abbia in qualche modo dei valori che ha in qualche modo testimoniato anche nei percorsi precedenti. Silvia Menon, lei invece è stata consigliere comunale all'opposizione nelle giunte dove loro due erano assessori, una battagliera consigliera comunale con una propria lista civica. Adesso si presenta con tre liste civiche e con molte ambizioni in questa campagna elettorale da candidata a sindaco. Mai come ora i partiti hanno dimostrato di essere in realtà un involucro vuoto con gli stessi volti che si riaffacciano solo per autoconservarsi. Mai come ora è possibile dare un taglio netto col passato e secondo noi questo può essere con tre liste civiche. L'altra volta con una abbiamo sfiorato il ballottaggio. Non ci siamo alleati con nessuno perché non ci interessa una carriera politica di assessore. Ci interessa mettere appunto un programma per la città e metterlo in pratica. L'altra volta siamo riusciti questa volta ad aggregare molte più persone. Siamo 86 candidati, ciascuno con il proprio lavoro. Proprio grazie anche a quell'opposizione che diceva lei, coriacea, coerente, presso una giunta che è finita anzitempo come quella prima. Con lo stesso schema, partiti divisi su poltrone e careghe e commissariamento delle precedenti amministrazioni. Una situazione politica vivace, diciamo così, a Rovigo. Adesso si vota, tra pochi giorni si vota sia per l'amministrativa e si vota però anche per il Parlamento europeo con le varie liste che sono presenti per le europee. La si corre poi col proporzionale, perciò non ci sono coalizioni. Però questa campagna elettorale dove si mescolano le europee e amministrative, che riflessi può avere, sta avendo, nelle amministrative a Rovigo? Che peso può avere anche il dibattito politico che c'è a livello nazionale con gli scontri e le tensioni che vi sono? Non so quale possa essere il condizionamento delle europee sulle amministrative perché sono due cose molto ma molto diverse. Basta considerare che per le amministrative abbiamo 500 candidati consiglieri che corrono per la città e quindi possono effettivamente fare la differenza rispetto alle europee dove non ci sono candidati consiglieri che possono penetrare il territorio. Quindi non sono in grado di dire fino a che punto potrà condizionare l'uno o l'altro. Tante liste però presenti, un po' troppi, mezzo a Rovigo che si candida. È successo anche l'altra volta, questo lo ritengo un fatto positivo, vuol dire che c'è anche voglia di partecipare, di mettersi in gioco, di provare questa nuova esperienza. Non lo vedo come un fatto negativo, anzi. Ezio Conchi, abbiamo sentito Saccardini sulla domanda che ho fatto prima, appunto europee e amministrative con un dibattito politico acceso nel nostro paese. Sicuramente molto acceso e sicuramente ci sarà anche un trascinamento di certe posizioni in certi partiti. Però la gente credo abbia capito che si va a votare o per un'Europa più aperta o più chiusa con un'immagine o un'Europa di ponti o di muri. Quindi alla fine il nostro popolo ha mostrato che quando è necessario sa ragionare e quindi dovrà scegliere se un'Europa di ponti o un'Europa di muri. Perciò lei crede che questo possa anche aiutarla per certi aspetti nel ragionamento complessivo? No, adesso questo è possibile, ripeto, però io sono per un'Europa per i ponti e non per i muri. Ponti e non muri, lei che ne pensa? Io penso che domenica i cittadini di Rovigo sceglieranno il loro sindaco e penso che abbiano ben chiara la differenza tra la scheda delle elezioni comunali e quelle europee. Anche già l'altra volta comunque le elezioni erano in concomitanza con quelle regionali e i cittadini hanno saputo comunque segnare la differenza. La mia lista, le mie liste civiche sono fatte di persone che probabilmente alle europee voteranno e si riconosceranno in schieramenti diversi, però assoluta libertà. Però riteniamo che per gestire la nostra città servano buon senso e competenza. Non esiste destra e sinistra per gestire le buche di Rovigo, non scelgo la buca di destra o la buca di sinistra. Tant'è che molto spesso nei programmi che abbiamo detto più o meno si assomigliano. La differenza sono le persone. Ecco, differenza sono le persone. Lei in che maniera ha voluto caratterizzare la sua campagna elettorale con il suo passato politico? L'ha ricordato prima di Forza Italia, adesso invece con delle civiche. Perché? Ma abbiamo caratterizzato la nostra campagna elettorale partendo dal bilancio. Noi abbiamo la consapevolezza che il bilancio del Comune di Rovigo ha in sofferenza per un problema legato e conosciuto come Lodo Baldetti. Probabilmente il Comune dovrà pagare circa 9 milioni di euro. Questo può mettere in ginocchio il Comune di Rovigo per cui bisogna pensare ad avere e recuperare altre risorse che noi abbiamo individuato nella possibile vendita di azioni che il Comune detiene attraverso una partecipata e che può portare importi notevoli nelle casse del Comune e quindi affrontare tutti i problemi che ci sono e sono veramente tanti. Sono veramente tanti i problemi di Rovigo. Il primo che lei vorrebbe subito affrontare, Saccardin? Sono talmente tanti però quando abbiamo fatto il primo confronto, il primo punto io ho messo il Comune di Rovigo deve riappropriarsi del suo ruolo di capoluogo di provincia anche con una provincia che sappiamo in qualche modo essere stata in parte esautorata e quindi sarà molto importante il Sindaco che deve essere un tessitore di relazioni con comuni, con provincia, con regione ma anche con i comuni della bassa veneziana e della bassa padovana in un'ottica di area vasta. Quindi è importante la persona che sia una persona che crea unione, che sappia tessere e in qualche modo gestire un programma che sia non frutto dei suoi pensieri ma da un coinvolgimento generale di tutti i cittadini. Schivando le buche di Rovigo che credo tutti siete d'accordo bisogna sistemare non so perché ci arrivate così tanto in ritardo. Menonda, la prima cosa che lei farebbe se diventa primo cittadino di Rovigo? Beh, diciamo che avendo fatto sette anni di opposizione so esattamente dove mettere le mani e secondo me occorre anche riempire il nostro centro storico e quindi agevolare innanzitutto viabilità e parcheggi che voglio aumentare e per cui voglio anche abbassare la tariffa che adesso è a 1,30 euro, voglio portarla a 1 euro creando delle fasce gratuite. Oltre a questo però abbiamo il coraggio di guardare anche alle prossime generazioni e quindi di andare a riempire politicamente i vuoti urbani che ci ritroviamo perché nessuno da anni ha più pensato a quali funzioni sono strategiche per la nostra città e noi abbiamo una precisa idea di cosa fare una miscellazione, un'autosufficienza dei quartieri per riempire di vita la nostra città. Centro storico di Rovigo che vive le sue difficoltà spazi vuoti, luoghi da sistemare lei ha un progetto già in mente Ezio Conchi? Un progetto c'è ed è quello di creare rete tra le varie entità che ruotano attorno al centro storico e come direi attorno anche all'intera complessiva città una rete che deve coinvolgere gli eventi, i commercianti, le attività inogastronomiche anche le attività agricole, la cultura in modo che l'uno possa aiutare l'altro un assessore alle attività produttive come pensiamo noi di istituire può essere utile per raggiungere questo scopo. Perciò che sia un momento di coesione tra tutti? Certamente, sotto la regia o il coordinamento dell'amministrazione comunale. Antonio Gianni Zaccardini su questo tema il centro storico della città, lei prima parlava della Rovigo che guarda una più vasta metropolitana invece la città in se stessa... Però c'era un'idea di fondo anche prima e cioè un progetto nasce dal coinvolgimento delle parti migliori degli attori del territorio in particolare per i vuoti urbani che sono parecchi io avevo già depositato un mio progetto al sindaco di riempimento dell'ex liceo classico che è in centro Rovigo avevo anche visitato assieme al comandante provinciale dell'arma di finanza quello che sarà un futuro vuoto quello del CUR quando l'università si sposterà a breve in centro e quindi avremo un altro vuoto anche quello avevamo già pensato e in più c'è stata a suo tempo il tentativo di far sì che il tribunale possa allargarsi sull'ex carcere una cosa che per adesso pare non andare in porto ma se fossi sindaco lavorerei in questa direzione. Siamo a dell'ipotesi di progetti ma Rovigo come la vedete nelle prospettive futuro e lo chiedo a lei Menon in questa realtà di Rovigo come la vede nel futuro? Rovigo è una piccola città di 50.000 abitanti con un bilancio da 50 milioni potrebbe essere un gioiellino se è andata avanti finora è stato grazie ai privati agli imprenditori alle associazioni di volontariato che sono andate avanti nonostante la mancanza di politica che perseguisse il bene comune io vedo una città che ritrova la sua identità forte è una città nata tra due fiumi molto legata alla terra e quindi quello che può fare un sindaco è ritornare a raccontare e valorizzare questa identità io voglio partire dalla terra e ho proposto un distretto del biologico per tutta la provincia che torni il Polesine ad essere verde e sostenibile ma anche il turismo sostenibile che deve essere nella nostra città grazie anche ai fiumi e ai turisti che scendono lungo i fiumi e anche a tutto ciò che viene messo a disposizione dall'Europa per il turismo in bicicletta Turismo, cultura e poi altri temi immagino, lavoro, prospettive di questo Rovigo come l'avete nel futuro il capoluogo polesano Conchi? Ovviamente la prospettiva vuole e deve essere positiva vogliamo partire con queste intenzioni come amministrazione comunale il compito dell'amministrazione intanto è quello di mettere le carte in regola in casa propria noi abbiamo delle aziende partecipate alcune che sono in forte sofferenza credo che si debba partire anche da un rivedere la filosofia delle partecipate io provenendo da un'area liberale di centro-destra sono per più privato e meno Stato quindi cerchiamo di liberare delle risorse per dare una possibile ripresa anche in quei settori che attualmente sono gestiti dalla pubblica amministrazione attraverso le aziende partecipate Da parte dello Stato, del Governo centrale bisognerebbe trovare delle chiavi di richieste maggiori? Secondo lei? Il Governo centrale in passato era molto più vicino agli enti territoriali oggi per quanto mi risulta trasferimenti di denaro non ce ne sono più ognuno si deve arrangiare però il collegamento tra Stato ed enti territoriali ci deve comunque essere è indispensabile siamo all'interno di una provincia, all'interno di una regione all'interno di uno Stato ma addirittura io dico anche all'interno di un'Europa che non possiamo cercare solo quando vogliamo i contributi e poi odiarla quando non abbiamo più bisogno dei soldini Saccardin, lei come vede questa Rovigo? Come si immagina una possibile Rovigo del futuro? Ovviamente bella che funzioni però i problemi ci sono come la vede lei? Io con speranza e con fiducia perché al di là di tutto se anche la politica ha fallito all'interno delle strutture ci sono persone che hanno lavorato con serietà ci sono, non è tutto da buttare quindi la vedo con fiducia e con speranza anche perché ci sono delle eccellenze pensiamo all'Accademia pensate che la Fondazione Cariparo per il Roverell ha portato circa 200.000 persone in 4 anni quindi il Roverell è il museo della città esatto se noi riusciamo a mettere in rete quelle che sono le intelligenze che ci sono i gruppi, le associazioni è proprio questa coralità che è venuta a mancare e che ha creato anche le condizioni direi di caduta delle precedenti amministrazioni bisogna recuperare una coralità con le persone che ci sono ripeto con gli spazi che ci sono e anche con le eccellenze che abbiamo Coralità ma e cosa manca poi invece nella capacità di Rovigo al di là magari degli scontri che possono accadere a livello politico di riuscire a proporsi in questo? Guardi un film ha bisogno di grandi attori ma è sempre un regista le ho detto prima che nel cercare di riappropriarsi di quel ruolo è importante la figura del sindaco se il sindaco sa essere collegiale se sa mettersi in ascolto se sa valorizzare e qualche volta anche parlare con l'opposizione nei temi grandi lei parlava di Roma prima di fondi che possono arrivare in questo caso bisogna guardare anche l'opposizione su tanti temi bisogna mettersi assieme io credo che sia importante la figura del sindaco Menon lei è stata molto critica dall'opposizione alla precedente amministrazione c'è un problema politico a Rovigo da porre in primo piano tra le realtà politica che c'è in quella città anche visto a livello nazionale? Assolutamente io mi trovo naturalmente in passato mi ero riconosciuta anche in determinati schieramenti cioè lei era colare di centrosinistra a suo tempo una volta davo fiducia però appunto avvicinandomi e vedendo da dentro la macchina amministrativa posso vedere gli stessi nomi dagli anni 90 ancora ad oggi sono i capilista nel centrodestra e centrosinistra il meccanismo è uno solo non sono scelti i candidati sindaco si sono unificati i vari schieramenti i vari partiti e hanno iniziato da marzo a chiedere a varie persone vuoi fare il candidato sindaco ci sono stati tanti no prima dei due sì che abbiamo avuto ma dietro ci sono degli schieramenti uniti solo dal fatto di riuscire a raggiungere il potere e stanno veramente tremando alla possibilità che una realtà civica possa veramente non fargli toccare più palla e proprio per questo ritengo che sia il momento come è successo ad Adria in un comune limitro perché i cittadini riprendano in mano la gestione del proprio comune anche lei si presenta con delle civiche perciò però ha un passato politico con forze che hanno presenza a livello nazionale ecco queste critiche che vengono sono un po' generiche o sono concrete e poi conta molto la persona nel ruolo di un'amministrazione è un complesso di cose allora io dissento un po' nel senso che secondo me i partiti hanno ancora un ruolo la democrazia in qualche maniera impone la presenza dei partiti e io ci voglio anche credere poi che in certi momenti per vari motivi possano esserci delle discresie che uno possa uscire da un partito per creare una civica per incomprensioni interne questo ci sta soprattutto se parliamo di amministrazione locale ciò non impedisce anzi è doveroso che ognuno abbia un ideale politico c'è chi è di centro-sinistra c'è chi è di centro-destra i valori sono diversi io mi identifico nell'ambito di un di un'area di centro-destra però non mi ricordo più l'oggetto della seconda domanda stiamo parlando appunto di questa ecco la scelta politica ci sono ancora degli schieramenti del modo di presentarsi non è solo la questione civica c'è anche poi delle affinità politiche più vaste su cui bisogna puntare beh probabilmente sì io ripeto io credo nella politica e percepisco anche una differenza tra quella che è la sinistra e quella che è la destra ciò non toglie che chi fa il sindaco lo deve essere a 360 gradi quando uno ricopre un ruolo istituzionale non è più di parte diventa l'amministratore dell'intera città Saccardini su questo appunto il peso della politica o anche la responsabilità di rappresentare uno schieramento essere più vicini a un'area o un'altra lei invece si è voluto caratterizzare con una lista che si chiama presenza cristiana sì io sono un civico non in alternativa alla politica perché riconosco e ho visto nei miei quattro mandati che ci possono essere anche persone che cercano i poteri ma ci sono anche persone appassionate e che servono e le ho viste sia nella maggioranza sia nella posizione quindi non butterei via tutto chiaro che poi alla fine i partiti si sono mostrati litigiosi e quindi la realtà civica per certi versi è preferita dalle persone che vanno a votare però anch'io credo che in qualche modo i partiti abbiano un ruolo devono ritrovare un po' più di concordia e bisogna evitare che sia tutta questa segmentazione bisogna evitare che ci fossero veramente degli ambiti perché poi c'è tutta una polverizzazione anche di quelle che sono diciamo le liste eccetera che non fa bene alla città c'è bisogno di una certa unità chiaramente l'elemento civico può portare degli elementi di moderazione di contributo anche perché la politica si svegli e cominci a pensare nella direzione del servizio ma gli schieramenti politici classici funzionano ancora in questo paese secondo lei? secondo me la politica deve forse ritrovare l'antica direi visione le persone si devono preparare perché tante volte si vede gente che va a politica magari anche per secondi fini ma la politica è importante bisogna in qualche modo renderla viva e più capace Silvia Menon lei è invece stata lo ha detto anche poco fa è molto più critica perché? sono molto più critica proprio perché motivata a capire come funzionano le cose nella mia città mi sono avvicinata alla politica non certo con idea di critiche ma propositive e mi sono resa conto appunto che anche lo schieramento che forse a cui davo fiducia il centro-sinistra sia in realtà occupato per anni anche a livello nazionale di banche e di spread e quindi ha abbandonato fasce della popolazione che sono fasce deboli e devo dire che è particolare anche il fatto che il candidato del centro-sinistra Rovigo comunque sia stato seduto nel CDA del più grande gruppo bancario finora d'Italia ecco per cui io ritengo che in realtà bisogna riavvicinarsi ai cittadini con uno spirito che è quello della buona politica tanti di noi provengono da associazioni volontariato hanno già fatto servizio civico magari nel piccolo e adesso si mettono diciamo così in atto in una sfida più grande occuparsene a livello collettivo della nostra città parlando del centro-sinistra c'è anche il candidato la candidata del centro-destra come vede questo? il centro-destra ha veramente sei liste mi ha molto colpito ieri durante la sua tribuna quando lei ha chiesto alla candidata Gambardella ma riuscirà a governarle lei ha detto ma per ora sì ecco è proprio questo il motivo il tempo che molto spesso già per due volte ha dimostrato che queste finte unioni in realtà dal giorno dopo le elezioni in caso di vittoria diventano solo un modo ognuno per rivendicare la propria bandiera e un proprio ruolo all'interno dell'amministrazione Enzo Conchi è il candidato sindaco Rovigo con una sua lista che si chiama Sindaco Conchi Cambia Rovigo e poi Rovigo Futura dei messaggi per il futuro stavo parlando di politica nazionale poi calata nella realtà locale lei si sente vicino all'area liberale credo e cosa vuol dire nelle critiche che sono state espresse adesso anche dalla Menon ma io registro una cosa allora questa coalizione chiamiamola di centrodestra rappresentata oggi dalla Gambardella è quella coalizione che io ho contestato durante l'amministrazione Bergamin che ho e per la quale sono stato cacciato è una coalizione che ha già perso noi non potevamo continuare a commettere un altro errore ecco perché sono nate due civiche in realtà io ne volevo fare una che si chiamava Cambia Rovigo poi siccome i candidati si proponevano ancora abbiamo detto beh non perdiamo queste risorse umane facciamo anche la seconda alla quale abbiamo dato un nome di speranza a Rovigo Futura lei tra l'altro è stato uno dei primi che si è presentato aveva sognava magari di aggregare maggiormente una realtà di Rovigo confesso che mi aspettavo qualche appoggio e invece hanno preferito andare altrove ma è giusto è giusto così ognuno fa le sue certe e ha speranze buone che sentore ha? ma io credo nella Providenza e ho fiducia nell'elettore per cui della Providenza ci crede sicuramente Saccardin presenza cristiana grazie la Chiesa e le polemiche con la politica non sono mancate in questo periodo queste critiche che ci sono che sono state sollevate tra politica la politica nazionale calata poi nella realtà locale beh direi sì ci sono state alcune cose che non sono piaciute anche prendere un rosario durante un comizio e quindi noi siamo una presenza cristiana che si muove in maniera laica e quindi fa proprio i valori di quella che è la presenza cristiana e quindi l'attenzione primaria alla famiglia alle persone bisognose carcerati immigrati disabili anziani questa è la politica che io intendo cristiana quella che cerca in qualche modo di collaborare con tutti gli ho detto che ci possono essere dei momenti anche in cui ci si può intendere con l'opposizione non per inciuci ma per trainare risorse in un capoluogo che in qualche modo ha meno di altri capoluoghi e quindi una presenza cristiana che fa ponti che ha la moderazione che non denigra gli altri per affermare se stesso ma cerca di presentarsi con il suo volto c'è anche una realtà di volontariato che lei sostiene immagino oddio ho lavorato per tanto tempo nel mio passato io ho fatto addirittura 35 anni con i giovani con le famiglie in vicaria di Ocisi è stato questo il mio passato che mi ha portato a fare l'assessore per una prima volta lontanissimo perché avevo sempre rifiutato la politica città aperta diciamo così afferma Saccardine nel passato nelle recenti giunte invece ci sono state le tensioni le polemiche politiche rappresentate anche dai primi cittadini che hanno dato una rappresentazione diversa a dirovigo però dei problemi ci sono l'immigrazione vengono ancora cavalcati come temi lei che dice su questo? Bergami ha dato sfogo alla propaganda elettorale più becera pensi che ha addirittura tolto come aveva fatto negli anni 90 un altro sindaco a Treviso ha tolto delle panchine perché su quelle panchine sedevano gli immigrati ha creato nelle persone l'idea che una città come Rovigo sia poco sicura quando è una di quelle città in cui ancora i bambini i ragazzi alle medie vanno a scuola da soli a piedi è chiaro che ci sono dei problemi per cui sicurezza per noi passa innanzitutto per mettere l'illuminazione che manca ancora in alcune frazioni e in alcune strade passa anche per avere dei vigili in mezzo alla gente e non chiusi negli uffici come attualmente sta succedendo devono essere un riferimento per le persone non solo chi fa un verbale di multa e poi naturalmente no a tutte quelle becere prese di posizione pensi che entro a dicembre scorso il comune ha acquistato per migliaia e migliaia di euro delle pistole e un'armeria stiamo parlando di circa 30 mila euro lei sa quanti vigili del comune di Rovigo possono sparare? Nessuno quelle pistole sono chiuse da 5 mesi in una stanza nel comando questa non è sicurezza questa è propaganda anzi spreco di risorse questa è Silvia Menon che è candidata con le sue liste civiche a sindaco di Rovigo problema sicurezza veniva affrontato un tema che rimane però acceso in questo in questo paese e poi si cala anche nelle singole realtà delle città Ezio Conchi su questo anche lei candidato sindaco con delle civiche cosa dice di questo di questo tema? Ma guardi direttore la sicurezza va divisa tra quella percepita e quella reale c'è una sicurezza percepita che fa un po' paura perché tutti credono di essere soggetti al rischio del furto della rapina poi c'è quella invece reale che sono i dati che vengono dati dalla questura i reati sono in calo non sono in crescita ciò non significa che non si debba avere una attenzione per quanto riguarda la sicurezza ma non dimentichiamo che il sindaco ha a disposizione la polizia municipale ma sono le forze dell'ordine che fanno capo il prefetto che devono garantire la maggior parte della sicurezza non confondiamo le due cose che poi il sindaco per il ruolo che ha possa farsi portatore di situazioni critiche e lo evidenzi al prefetto in occasione degli incontri che ci devono essere in tema di sicurezza è doveroso da parte del primo cittadino su questo su questo tema ha legge delle frasi le ha già dette però su questo tema specifico poi che afferma richiamo un po' quello di prima sono convinto che un sindaco deve essere sobrio nella comunicazione è serio questo è un dato di fatto che ritorna al valore della figura del sindaco per quanto riguarda il discorso sicurezza insomma Rovigo è una cittadina che è abbastanza tranquilla se noi la misuriamo con gli altri capoluoghi certo che la sicurezza non è mai troppa i furti ci sono anche a Rovigo ma non possiamo pensare di trasferire certe diciamo atmosfere di comuni più grandi che hanno anche problemi di uscire alla sera con Rovigo assolutamente no ciò non toglie che anche negli ultimi progetti fatti dall'assessore dei lavori pubblici c'era la videosalveglianza per esempio davanti alla nostra chiesa della Rotonda sulle ciclabili perché se si può migliorare ma non abbiamo un problema di sicurezza tale da far paura come è stata questa campagna elettorale dal suo punto di vista l'ho detto nel penultimo confronto molto civile tra le persone le persone hanno cercato di far prevalere in qualche modo quelli che sono i propri punti di vista più che anche se c'è stata qualche puntatina non so ma non ho visto la grossa denigrazione degli altri per affermare se stessi ecco a me è sembrata molto civile e lei Silve Menon come ha vissuto e come ha visto questa campagna elettorale? ma questa campagna elettorale l'ho vissuta con estrema passione dando il meglio e lo darò fino all'ultimo naturalmente vedo molto spesso si è spesa molto in questa campagna sì anche a livello personale io ripeto per estrema trasparenza la nostra campagna elettorale delle nostre liste civiche ha un budget costato circa 13.000 euro e li abbiamo messi tutti noi 86 candidati non abbiamo voluto che nessuno finanziasse la nostra campagna proprio per essere il più liberi possibile ecco l'unica cosa sì si parla molto spesso di estremo rispetto e civiltà però forse molto spesso si cerca di edulcorare la realtà anche questo nomea di civici molto spesso è stata ritenuta o è usata anche da chi in realtà civico forse non lo è siamo all'ultimo giro molto rapidi nella chiusura rimango su questo tema perciò come è stata come l'ha vissuta lei questa campagna elettorale con chi tra l'altro siete sette canetta sindaco perciò si è andata sicuramente a un ballottaggio già indicazioni su che succederà secondo lei no voglio restare con la curiosità e quindi non ho non ho previsioni però la campagna elettorale è stata effervescente mi ha fatto conoscere ed apprezzare molto diciamo i miei compagni di viaggio che mi hanno sostenuto anche nei momenti di difficoltà reciproche sono che ringrazio tutti per la grande partecipazione e il ruolo che hanno avuto e dico grazie anche ai miei competitor colleghi che effettivamente si sono comportati in maniera egregia e assai rispettabile Elzio Conchi lista sindaco Conchi cambia Rovigo e Rovigo futura già uno slogan ma c'è uno slogan della sua campagna elettorale? lo slogan è quello iniziale ascoltare e riflettere e poi deliberare e decidere Antonio Saccardin candidato sindaco Rovigo per presenza cristiana c'è uno si andrà al ballottaggio sicuramente a Rovigo a quanto pare lei vede già che succederà dopo e in ogni caso qual è il giudizio che dà su questa campagna elettorale finale lo stile per la nostra scelta sarà quello dell'altra volta l'altra volta abbiamo riunito i 24 che avevamo in lista più direttivo questa volta saranno i 26 più direttivo guarderemo le persone che Rovigo ci restituirà perché in tutta la mia comunicazione ho fatto emergere che al di là di tutto sono importanti le persone quindi in funzione di quello noi decideremo e prenderemo una decisione collegiale c'è uno slogan della sua campagna elettorale? è quello che è rimasto della prima esperienza che era rettitudine competenza spirito di servizio preceduta da un'altra parola esperienza perché dopo 4 mandati l'esperienza è diventata forte e importante molto rapida Menon Silvia Menon allora uno slogan di questa campagna elettorale quando si andrà al ballottaggio che fa? il nostro slogan è facciamo succedere le cose belle perché per troppo tempo la città è rimasta addormentata in città e nelle frazioni purtroppo spesso addormentate per le quali subito nei prima 30 giorni nomineremo un referente tra i consiglieri che vada nelle frazioni a riferire facciamo succedere le cose belle noi ce la mettiamo tutta ma di sicuro si parte domenica in cabina elettorale ecco domenica lo ricordiamo e siamo in chiusura di questa tribuna elettorale domenica si va al voto sia per le europee che poi per le amministrative che interessano 321 municipi in Veneto di questi 23 Corrovigo sono superi 15 mila abitanti e perciò si può andare anche al ballottaggio il voto di domenica è dalle 7 alle 23 l'eventuale ballottaggio il domenica 9 giugno con questo abbiamo completato il quadro dei 7 candidati a sindaco di Rovigo e ci vedremo negli spazi del telegiornale e negli speciali che ci saranno il lunedì durante lo scrutinio a risentirci e arrivederci da Curzio Petterò grazie